Secondo test precampionato per il Brindisi che continua a mettere minutaggio nelle gambe. Ancora alcune assenze per mister Danucci che deve gestire la rosa disposizione in attesa nelle prossime ore dell'annuncio di Nicolao e Bunino. Ormai ufficialmente nuovi calciatori del Brindisi. La gara è scoppiettante fin dalle prime battute e non mancano i gol e le emozioni. All'ottavo sblocca il risultato Fall che trova la sua prima rete anche se non ufficiale in maglia bianca azzurra. Recupera la sfera al limite e con un raso terra beffa il numero uno di casa. Al decimo però subito il pareggio Manduriano e Cavaliere inserirsi dalla destra e a trovare la rete nell'angolino più lontano. Il Bini si torna in vantaggio al diciassettesimo. Petrucci sotto misura trova il dribbling vincente al limite dell'area piccola e mette la sfera in rete per il nuovo vantaggio Brindisino. Prima dello scadere l'ennesima rete di Gorzeleschi la terza in due test amichevoli. Al quarantunesimo sugli sviluppi di il corner il colpo di testa che vale il gol del 3 a 1 con cui le squadre vanno all'intervallo. Nella ripresa subito la quarta marcatura Brindisino al quattordicesimo. Sul calcio di rigore Golfo non sbaglia. Il Manduriano nel finale non ci sta e prova a tornare in partita. Inserimento di Cavaliere che di forza mette in rete il gol del 4 a 2 per i Brindisini. Al trentaseiesimo su punizione l'altro centrale difensivo Brindisino Cipolletta a rimettere le distanze in campo ma a rendere poi meno amaro il punteggio finale per il Manduria ci pensa una rete di pregevolissima fattura di Hernandez che mette il sigillo del 5 a 3 finale.